ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale allora allora come posso come posso iniziare sto video come posso iniziare sto video datemi un'idea datemi un'idea ah sì forse forse buonasera a tutti dal tg pare enjoy allora ragazzi sostegno a roberto palermo mi raccomando mi raccomando perché è giusto sostenerlo in questo periodo periodo non tanto bello periodo non tanto bello perché farsi bloccare il canale da da gente più che non ha senso di esistere nel senso della parola perché non hanno niente da fare comunque ragazzi detto questo detto questo passiamo a questo video questo piccolo video allora atletico madrid juventus o juventus atletico madrid come sarà la partita ma ragazzi quello che ho capito su quello che ho capito quello che quello che ho inteso fino adesso e che finché giochiamo finché giochiamo così sfogliati giochiamo sfogliati senza voglia di di vincere nel nel correre come al solito passeggiamo passeggiamo in campo ma pare strano già che siamo già ritornati al gioco di allegri e da noi così non va bene non va bene ma dove andremo a finire dove andremo a finire in champions passeremo agli ottavi però non è colpa di Sarri non è colpa di Sarri ragazzi però abbiamo abbiamo dei centrocampisti dei centrocampisti che fanno faville che fanno faville non lo so non lo so già che vinciamo vinciamo le partite in campionato che proprio con con l'ansia e con il parto cesareo perché ragazzi vinciamo vinciamo no con fortuna col gruppo del stomaco con gruppo del stomaco e tutte incazzature che si fanno tutte qui incazzature che si fanno ogni volta boh non lo so ragazzi mi spero io spero anche voi altri penso spero che ronaldo si svegli che ronaldo si svegli e che pensa sono 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 alla i ventus per far vincere questa squadra e poi per poter dare un qualcosa in più a questa squadra e perché no anche di vincere questa champions o almeno tentare di vincere ma sarà molto difficile già che facciamo fatica facciamo fatica con le squadre piccole non lo so ragazzi con l'atalanta con l'atalanta che ci ha messo che ci ha messo a dura prova ci hanno schiacciato come nel primo tempo nel secondo un po siamo siamo un po venuti fuori dal guscio però ragazzi se vogliamo fare fare un qualcosa in più bisogna che a mal in cuore a mal in cuore anche se la juve si si sveglia sempre e trova sempre qualche arpia di di cavarsela di cavarsela ogni partita perché non può perché non proviamo a perdere qualche partita che almeno un po si svegliano di più perché anche sarri anche sarri sarà bravo sarà bravo però siamo stanchi ad aspettare siamo stanchi da aspettare questo gioco che non arriva o che non arriverà mai scusate se mi incanto ogni volta perché ragazzi è dura anche fare video così da nulla perché io non ho niente di scritto niente niente ragazzi proprio non lo so non lo so dove andremo dove andremo dove andremo ditemelo voi dove andremo ma ragazzi non lo so comunque roberto palermo roberto detto palermo mi raccomando non mollare che tutti noi youtuber siamo con te con te e ragazzi intanto grazie per il sostegno che mi date e anche per i nuovi iscritti sono iscritti al mio canale e anche se sono un po rito sono un po rito youtube cosa volete vabbè crescerò anch'io ragazzi con poco cresso con poco crescerà non lo so va dipenderà tanto da me dipenderà tanto da me perché voi vedrete solo questo 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 qua che dice la sua bene o male che vada ma intanto mi ascoltate dopo per chi ha vuole di seguirmi per dire ah sto qua se sto quasi come si dice si come si dice adesso mi sono mi sono anche incantato si espone in maniera sciolta libera va bene ragazzi faccio faccio quello che riesco a fare ma insomma vabbè ma penso di aver fatto male penso di non essere male almeno penso io dopo siete voi che giudicate scusate il video in pigiama ma importa comunque ragazzi io vi saluto mon mare balermo non mollare siamo tutti con te ragazzi se volete iscriviti al canale mettete mi piace se volete e basta ragazzi io vi saluto io vi saluto buonasera a tutti voi e noi ci vediamo un prossimo video va bene ragazzi boh perfetto basta quello che ho detto ho detto ragazzi ci sentiamo ciao a tutti ciao